Perché con il battesimo siamo cellule di questo corpo, che è la Chiesa, e ne fanno parte tutti i battezzati. Quindi ciascuno di noi è una cellula di questo corpo, e deve essere cellula viva e vitale. Ogni volta che commettiamo un peccato, noi siamo cellule tumorali della Chiesa. Non ce la possiamo prendere con nessun altro se la Chiesa va male, perché se la Chiesa va male dipende prima di tutto da noi. Quindi siamo noi i primi che dobbiamo cercare di essere secondo il cuore di nostro Signore. Il Signore della Croce ci ricorda che la nostra vita appartiene al Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alle invocazioni rispondiamo Gloria a Te, Signore. Palme Santo, Tu c'hai dato la vita. Gloria a Te, Signore. Signore Gesù, Tu sei morto per noi. Gloria e lode a Te, Signore. Spirito Santo, Tu abiti nei nostri cuori. Gloria e lode a Te, Signore. Nel battesimo siamo Tuoi figli. Gloria e lode a Te, Signore. Ci hai liberato dal peccato. Gloria e lode a Te, Signore. Ci riunisci nella Chiesa. Gloria e lode a Te, Signore. E ora passiamo per il Battistero in memoria del nostro battesimo per poi fare il nostro ingresso in cattedrale attraverso la Porta Santa. Davanti apre la processione il diacolo con il crocifisso e i candelieri e i ministranti e poi tutti noi dietro. Grazie. 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 Grazie.